Dov'è rimasta? Ah, qua! Prova 4 e 4! Adesso andiamo? Adesso andiamo sui nostri video. Anna stava andando nel castello con Frozen. Ludo, Ludo, Ludo! Oh, vediamo il video delle tre mamme. Io sto guardando in mente. Dai, Lulu! Vabbè, allora lo guardo solo io? Aia! Anna stava andando nel castello con Olaf e il suo difensato, che si chiamava lui. Brava! Mamma, potete venire a prendere le tre mamme? Ragazze, ma vi volete alzare un po' da questo divano? No, mamma! Dai, andiamo a fare una passeggiata, su! No! Guarda qua, da soccantare un bel gelato. Ma su che c'è un bel sole, andiamo a prendere un bel gelato? Mamma, a forza è una mia canzone di essa. Ludo, vogliamo andare a prendere il macarone? No! Dai, ragazzi, su, vogliamo uscire un po'? Mamma, non vogliamo uscire, siamo stanchi, voglio ci rilassare subito. Ma che state sempre buttate su questo divano tutte e due? Perché è il relax! Ma perché noi dobbiamo rilassarci? Che stai facendo tu? È il relax! Relax? Sì, no! Ci siamo usciti da mille volte! Allora sapete che c'è? No! Sì! Oggi vi farò fare una bella challenge! No! Sì, 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 sì! No, 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 no! Alexa, aiuto! La challenge che farete oggi sarà... No! Oh! No! Provate a indovinare! 24 ore in cucina! Nella cucina! No, no, no! 24 ore nella camionetta! No, 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 no! 24 ore nel salotto! Odica, provate un po' a immaginare! Noi siamo sul divano! 24 ore nel divano! No, 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 no! Che hai fatto? 25 ore nel divano! Eh sì! Però c'è una piccola regola da seguire! No! Qual è questa regola? Avete solo due minuti di tempo per procurarvi tutto quello che vi occorre! Sono tantissimi! Uno e due! No, 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 no! E il minuto scazza da... 3, 2, 1... Adesso! No, 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 no! Non è successo niente! Andiamo, andiamo! Corri, 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 corri! Adesso! Adesso! Andiamo! Adesso! E quando? No, 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 no! L'ho pezzi! L'ho pezzi! Lo pezzi! Adesso! Andiamo! Mori! Dove è il telefono! No, non è il telefono! Lo pezzi! No, non è il telefono! L'ho pezzi! L'ho pezzi! L'ho pezzi! Prendi! Wow! Ok. È il mio! È il mio! è me le peluche qual è unicorni è un uomo le sue batterie è un uomo è questo si è questo è questo da mangiare prendi la terreni tu sei il neck no 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 Ludo dai 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 allora prendi questo prendi questo prendi questo è grossiato lo metto kinder e insomma questo 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 ok basta questo vai 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 Ludo vai corri allora vuole nel carro il tempo sta scadendo il tempo sta scadendo non c'è il plastica qualcosa da bere da bere da bere da bere coca aiuto coca 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 l'acqua l'acqua i bicchieri acqua i bicchieri l'acqua altri ma cosa stai facendo tre due uno è il tempo scaduto ragazze che fatica mamma mia che fatica cosa avete preso allora abbiamo preso i bicchieri questa sono mia la mangio subito un sacco di cioccolatine poi da bere coca acqua e acqua che stai mangiando Ludo non è neanche iniziata la challenge esatto poi abbiamo preso le cose tecnologiche il telefono computer insomma poi di tutto ok ora organizziamoci bene allora sistematevi mettetevi comode che qui la giornata è lunga lunga perché io ho la coca la bevo tutta non so se ve l'ho detto lo sai che dovrete dormire qui sopra vero si si dovrete dormire qui quindi avete portato le coperte ovvio ovvio bene unica cosa che io vi porterò sarà il pranzo allora e ora ragazzi ci sistemeremo allora ora i cuscini li mettiamo allora io la coca la bevo tutta leggera no Ludo ma che gomma hai messo in bocca la due bago cioè è più grande della tua bocca questa gomma vediamo se ecco fare una bolla ragazzi tranquilli Ludovica ha imparato a masticare le gomme sì perché le gomme poi si si buttano quando ti stanchi di masticare brava esatto e non si ingoiano solo le caramelle io io la mangio metà perché sono piccola eh sì va bene ragazzi dai sistematevi ok allora il cesto se cade il cesto siamo morte mamma allora questa è formato di fragola ok allora Ludovica facciamo una cosa dammi tutte queste cose cosa sta facendo dobbiamo sistemare mi è arrivato un messaggio dai sistematevi dobbiamo sistemare è giù il mio telefono mi ha portato il telefono signorina ragazzi ma scusate o cosa avete visto la cover anche la mia però ho staccato l'unicorno sì l'ha rotta tutta praticamente perché quando facciamo vogliamo mettere le cose sopra così guardavo youtube e non facevamo mai la pancia sì va bene dai daluto ma se io faccio così no 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 tranquilla tutto ciò che cade non lo potete riprendere ok non cade a nulla aspetta mettiamo bene qua allora la tua copertina mettiamo un'altra copertina qui bene 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 vedo che avete sistemato mamma se cade il mio telefono sono morta eh sì ora sì che possiamo iniziare una 24 ore no no cara io non vado in quella parte così stretta io sto qua ok anzi tu dovresti andare nella parte più stretta visto che sei più piccolina anzi no puoi stare dalla parte più Ludo vedo che hai portato anche la tua copertina per dormire perché se la lascio tutto il tempo ormai muoio di coperta beh ragazzi muoio di coperta significa che non riesco a stare senza la sua copertina eh sì beh ragazzi io Ludo un attimo io ragazzi vorrei buttargli la coperta giù così lei perderà allora ho sentito no no ho detto che vuoi buttare quella coperta mamma lo sai adesso cosa mangio proprio questa che sono Ludo delle caramelle commose che Aurora non le ama ma io adesso me le mangio ti piacciono a te sì allora ho le caramelle ah quello è un fiorellino già lo vuoi no io allora assaggiamo uno due tre c'è proprio così un morsone proprio erano dentro qua come sono? questo è un profumo di cielo un profumo di cielo vediamo che caramelle ci sono qui dentro questa gialla mi piace mi ispira è al limone è al limone buona l'hai mai mangiata? no assaggiamola ah pure? va bene ragazzi io vado mi raccomando vi tengo d'occhio ok ci vediamo più tardi ok va bene che profumo queste caramelle ciao 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 che noia Ludovica questa challenge era pessima io pensavo che era bella divertente perché insomma stare sul divano alla fine è bello ma troppo tempo no vedo se ci scappa la pipì o la cacca oh mamma vabbè comunque però la devo fregla perché beh puoi andare no tanto mi scappa poca solo una goccia quindi non vado la pipì guarda che non si trattiene è solo una goccia comunque Ludovica io guardando la televisione mi è venuta in mente una cosa eh hai portato il telecomando no mi sono dimenticata è là sopra cosa si allora proviamo a prenderlo dai che già eh cosa Ludo provi dai dai Ludo io ti mantengo dai Ludo Ludo cadi Ludo ok vai vai prendeteci sei aiutate sì grazie e perché non si mantengono eh cosa cosa hai detto scusa perché non si mantengono no ok bene bene Ludovica tu guarda un po' guarda un po' la televisione io sto un po' con il cellulare ragazze eh mamma vi ho portato il pranzo le piadine piadine vi piacciono a me non mi piace la prova là dentro quindi la metto fuori mamma visto che dobbiamo mangiare io e Lulù abbiamo pensato a tutto ci siamo portate la mucchina questa è rossa brava aspetta 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 allora disinfettate le mani è rossa profuma di fiore vai metti un po' avete pensato proprio a tutto devo dire brave Ludo quanto tenete oh mio dio sta cadendo Ludo che stai combinando Ludo e dopo fammi vedere cosa c'è in questa piadina allora allora aspetta le posso vedere io allora presa di tacchino sì e provola a me solo presa di tacchino perché non mi piacciono le provole dentro ah no ti piacciono da fuori le provole su 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 com'è questa piadina Ludo molto buona molto buona dieci e l'ote oh grazie ho fatto vedere eh no no ha fatto cadere cosa le briciole non è vero ok non ho fatto cadere nulla dopo dopo devo dire che vi siete attrezzate proprio bene bicchieri poca acqua ma te stai bene 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 brave ragazze per ora state andando bene probabilmente abbiamo pensato a tutto per i libri di Aurora ah brava anche ai libri hai pensato ottimo e sì perché sennò domani a scuola come ci vai se non sei preparata sono accosti perché sono dietro ai cuscini certo che tu proprio questo challenge dovevi fare il giorno in cui in cui domani devo andare a scuola eh certo e devi essere anche interrogata tra l'altro esatto quindi ti conviene occupare il tempo a studiare ah le dalle è dura è dura è dura va bene ragazze io vado ci vediamo più tardi mi raccomando e occhio che io vi spio se qualcuna di voi si azzarda a mettere anche solo un piede a terra perde la challenge ok ciao ciao ragazze come procede no un po' d'acqua no Ludo Ludo no un po' d'acqua Ludovica guarda che non ti faccio quella sorpresina Ludo ti viene mal di pancia eh con tutta questa coca la sorpresina sull'optime non te la faccio più acqua basta basta Aurora vai vai ah vedo che stiamo anche bevendo mamma lo sai se bevo sotto si sente più coca Ludo facciamo una challenge si bene voglio quello giallo aspetta la challenge la challenge consiste nella chi indovina il colore delle messe se la mangia tocca prima a te secondo me per skill verde ah il giallo eh chiudi gli occhi eh questo sbagliato sbagliato quindi meglio e tu io mangio ora secondo me mettiamo bene esce il colore blu blu no verde sai il verde è il suo colore superito uè no 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 vabbè dai visto che non abbiamo indovinato nessuno delle due mangiano ora ragazzi fatelo voi questo gioco secondo voi che colore esce bene io credo che Ludovica pescherà il rosso anzi no l'arancione anche io l'arancione no tu un colore diverso non puoi dai e il blu ok voi ragazzi mettete in pausa il video quando ci vediamo in sotto iscrivete giù nei commenti ok l'arancione vai no guarda guarda se aspetta questa se lo sai ragazzi provo ad assaggiare queste provo ad assaggiare da tutti i gusti no no su di su di di acquirizia guarda puoi per caso poter mangiare su di su di su di devo studiare spagnolo allora facciamo un gioco io devo indovinare la parola che dici tu ok allora ripasso anch'io studiamo i cibi Ludovica allora ora ti dico della frutta e tu devi però in spagnolo e tu devi cercare di capire che cosa sto dicendo non pensi che sono da su no dietro e questi qua sono dei cibi allora in spagnolo la frutta seressa sono mia Teresa la mia maestra sono mia no non è fresca freccia no era fragola e seressa era era la ciliegia vabbè una facile no manzana manzana marzana no era mela dai Ludo questo è super facile melon melon dai Ludo melon melone brava ora ti dico una cosa che tu bevi la mattina lecce latte brava ehm harina 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 Ludo harina no harina significa farina harina adesso non facilissimo naranja no avrei tanto tu non sai leggere naranja aranja brava oggi vogliono giocare a roblox uevo allora vogliono giocare a roblox ok si dopo ciao allora giochiamo a bloccare va bene va bene roblox aspettami hai sentito la mia bacia ha fatto ha fame aurora ha fame guarda su adapt me cosa hanno fatto bello mi dai il regalo no aspetta allora facciamo anche allora dobbiamo continuare la storia continuiamo aspetta oddio ecco ora sta piovendo ma tu sei questa ragazze si cosa state facendo ora ti posso prendere in braccio si ludo mamma guarda ma state giocando io sono la piccola di lulu a cosa giocate a block heaven ora stai ferma che bello questo gioco chi sei tu auri questa qui però mi devo cambiare i capelli perché non mi piacciono questa con i godini si aspetta ludo vediamo questi qua no belli questi fammi vedere a ludo vai di là eccola qui ludo aspetta guarda qua ludo tu sei quella dietro si questa che salta si che carina che è ludo vieni in braccio in braccio aurora ti fa ludo tu chi sei questa che salta ah ludo questa sei tu ludo io prendo un ombrello ma cosa si fa in questo gioco ragazze me lo spiegate un po' sta piovendo si perché è buio perché è buio lì perché aurora aurora costruiamo una casa tutta aspetta io vado a farmi un bel taglio di capelli anch'io allora decido di farmeli qua i capelli bene io me li faccio rosa io me li faccio gialli vediamo come scappare i capelli rosa anzi io me li faccio azzurri azzurri guardatemi ma non si paga questo parrucchiere aurora c'è i capelli azzurri io ce li ho rosa che belli aurora una pazzia fatta aurora andiamo a fare una casa madonna no ludo io devo andare un attimo ah voglio vedere la vostra casa me la fate vedere ok andiamo ok io prendo un veicolo prendo il monopat no però non io ci vado più veloce ludovica sto arrivando eh allora puoi andare a vivere la mia casa va bene vivo nella tua casa eccomi qui guarda ma trovo io ciao ragazzi avete visto io con questi capelli rosa super fashion alla moda aurora facciamo la casa all'albero va bene l'ho scegli tu no 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 questa è bellissima guardata darudo presentaci dai su voglio vedere la vostra casa aurora vieni ok entro subito ludo però chiudi tutto eh questa è la vostra casa chiudi lulu brava che bella apri che bella questa casa allora qui ragazzi c'è la cucina poi allora buccia oh mio dio vabbè allora aperta stai ferma c'è la connessione pure la connessione avete ah grazie così posso andare così posso girare per la tua casa allora qui c'è un bagno poi vediamo che belle pareggi fu aurora non andare dentro no 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 io voglio andare su per vedere come è qui abbiamo le lavatrici sì io guarda l'uccelletto a castello ludo vogliamo fare una cosa aurora ti faccio vedere i soldi ti posso guardare i soldi aspetta ludo ma perché non facciamo un gioco usciamo vieni ma sta ancora piovendo ludo apri ok non sta più piovendo no si sta piovendo uffa uffa che bel giardino che avete aurora è la piscina aurora è la piscina sì e quella con i capelli fucsia aurora va bene ragazze io vado ci vediamo più tardi ok ok ciao ciao è piccola eh vuol diventare piccola Lulu ma andiamo a fare qualcosa vieni ma ti ho chiuso no allora vuoi entrare no no Aurora non farò entrare la persona bevendo troppa coca mi scappa la pipì ops forse sono la vinturisica di questa veda allora ti do amico visto che mamma non c'è vai di inaccosto ok ok niente mamma nei paraggi posso uscire cosa vedo qui cosa vedo no nulla nulla qualcuno stava scendendo per casa no sicure sicurissime non sto facendo a me ci piedi a terra Ludo no 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 vedi bene bene va bene ragazzi allora io direi che la challenge è vinta ma non cantate vittoria perché vi manca ancora la notte da trascorrere tutta 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 fine domani mattina vabbè ragazzi il video finisce qui noi vi salutiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto e questa challenge l'abbiamo superata perché io non ho messo i piedi per te io non ho messo non è vero allora l'ho coperta io c'ho una l'ho coperta dormire con me sì vabbè ragazzi questa è pasta noi andiamo a dormire iscrivetevi attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in su fatelo eh ciao ciao allora prendi la coperta sì il mio libro allora dai anzi no dai il libro mettiamo qui dai dormiamo anzi no mettiamolo qui allora dai dormiamo insieme perché tu là non c'hai l'acqua esatto veniva più là l'uno aiuto allora io non sono la coperta bene la calduccia allora ma tu ce l'hai di più è la cosa che c'è qui c'è la pietra Grazie a tutti.